Affluenza impicchiata in Tunisia per il primo turno delle elezioni presidenziali. Stando alla Commissione indipendente per le elezioni, il tasso di partecipazione si attesterà intorno al 40%, in netto calo rispetto al 64% registrato nel primo turno delle elezioni del 2014. I primi exit poll vedono in testa il giurista indipendente Kais Syed, seguito dal magnate dei media Nabil Karoui, in carcere dal 23 agosto con l'accusa di riciclaggio ed evasione fiscale. Sarebbero loro due ad andare al ballottaggio. Più staccato Abdel Fattah Mourou, candidato del partito islamico, è Nadà. Ho visto ordine, calma, tutto si è svolto in sicurezza, non immaginavo che sarebbe andata così, dice questa elettrice. Tutti hanno votato per il candidato che volevano, speriamo che chiunque sia possa portare la Tunisia fuori dalla crisi. Sono andato a votare anche se sono malato. I farmaci non si trovano, ma non mi interessa. Non voglio mentire, i politici non mi piacciono, anzi li detesto, detesto quelli che sono al potere. Non hanno fatto niente, niente. È anche colpa loro se non ci sono i farmaci. In gente, il dispositivo di sicurezza ha messo a punto dalle autorità tunisine. Migliaia gli osservatori elettorali, nazionali ed internazionali, che hanno presidiato i seggi per evitare irregolarità nelle procedure di voto. Presente anche una delegazione di osservatori dell'Unione Europea, che non avrebbe riscontrato nessuna violazione. Grazie. Grazie.